Bella a tutti ragazzi con orgasmi che sono qui a portarvi un nuovo squad builder come vi avevo anticipato nello scorso vi avrei portato una squadra tutta cilena e di fatti ve l'ho portata comunque vi invito come sempre a lasciare un bel like 300 mi piace uscirà una nuova squadra ma soprattutto a scrivermi nei commenti quali squadre, quali nazioni volete che io vi porti nei prossimi video quindi fatemi sapere nei commenti comunque cominciamo subito con la squadra cilena, una discreta squadra però costa abbastanza ma soprattutto in difesa non è per niente forte non ci sono difensori cileni che spiccano quindi fa un po' fatica difensivamente del tipo che prende almeno un gol o due a partita però comunque sia con l'attacco che ha ne riesce sempre a fare uno in più degli avversari partiamo subito con il portiere, intanto fatemi impostare qui nazionalità cile allora il portiere è ovviamente Claudio Bravo che è uno dei migliori portieri del gioco secondo me perché è veramente fortissimo ha dei valori altissimi di tuffo e di riflessi poi vabbè presa e piazzamento ci stanno anche è un giocatore che mi ha salvato anche un paio di rigori ultimamente e quindi devo dire che è veramente un top portiere che costa veramente poco poi andiamo col terzino destro, ho utilizzato Fierro che forse è il migliore cileno ed è raro, l'ho voluto utilizzare soprattutto per il fatto che ha 73 di tiro quindi magari nei calci piazzati così è forte, magari anche nei tiri dalla distanza ha un discreto tiro, sì devo dire la verità però difensivamente non è molto veloce non è molto forte difensivamente con solo il 67 e quindi fa un po' fatica soprattutto nei recuperi difensivi poi andiamo con i centrali, troviamo a destra questo Rojas che è un discreto difensore nel senso che ha delle buone statistiche, buona velocità buoni valori di difesa e fisico, mi ha fatto anche un gol su calcio d'angolo se non sbaglio è mancino, lo scopro adesso quindi forse l'avrei dovuto mettere a sinistra, come centro-sinistra però comunque sia devo dire che lui è il meno peggio dei difensori il peggiore probabilmente è questo Ortiz, ho voluto mettere lui perché ha 77 di velocità ha comunque, cioè se fosse in una squadra bronzo sicuramente non sarebbe malissimo perché comunque ha delle buone statistiche, però è alto 1,75 e contro giocatori oro che mi sono capitate praticamente solo squadre con davanti Emeniche e Dumbia fa un pelo fatica ma comunque qualsiasi giocatore farebbe fatica con quei giocatori davanti comunque adesso che scopro sono entrambi i difensori centrali mancini quindi avrei, sì comunque avrei lasciato così quindi passiamo al terzino sinistro che è Beau Sejour, non so se si pronuncia così anch'esso molto simile al terzino destro solo che ha meno tiro però le statistiche poi sono più o meno quelle, costa tantissimo però non vi garantisce praticamente nulla se non che tutta la difesa vi garantisce almeno un gol subito a partita però comunque andiamo con i lati diciamo migliori, più positivi di questa squadra cioè partiamo dal centrocampo con Vidal come CC di destra mi aspettavo sicuramente di più da Vidal perché mi aspettavo di più da 1,85 con queste statistiche qui mi aspettavo davvero qualcosa di più qualcosa che non mi ha dato però ha comunque delle buone statistiche difensivamente è forte e anche offensivamente serve molti assist fa anche qualche gol, quindi sì, devo dire che vabbè non è il peggiore ma non è neanche il migliore, secondo me è dei centrocampisti poi come CD in realtà potete usare Carmona io però ho messo Medel, volevo molta più copertura anche se 78 non è tantissimo l'ho lasciato CDC perché comunque fa 9 di intesa è un buon giocatore però quando deve impostare mettiamoci una pietra sopra andiamo con il CUC davvero molto buono non ho usato Mati Fernandez perché non mi fa impazzire ho usato Hernandez, questo qui che l'ho usato in bestie nascoste davvero un giocatore fortissimo che fa tanti gol, fa tanti assist ha tanta corsa, è veloce, ha un discreto fisico, 4 serabilità quindi non si può volere di meglio secondo me da un centrocampista offensivo come lui costa tanto ma le vale tutta la vita poi, in attacco ho utilizzato come ala di destra Sanchez, qui c'è un Munoz, non so chi sia Sanchez, anche esso come ripeto, come ho detto con Vidal mi aspettavo molto di più da Sanchez da un giocatore con queste statistiche da un giocatore upgradeato mi ha fatto solamente 2 gol e 2 assist mi sembra 4 partite che ho fatto per il prezzo che costa secondo me doveva garantirmi qualcosa di più c'è da dire che io non l'ho utilizzato da AD bensì ho fatto lo scambio esterni quindi l'ho usato da ala sinistra che comunque andrebbe bene perché rientra e va sul destro però devo dire che mi sono trovato meglio con altri giocatori come ala di sinistra che poi ho utilizzato a destra è stato Gonzales con lo scambio esterni va a destra perché lui rientra ed è mancino e ha un tiro pazzesco anche se secondo me non funziona benissimo come ala questo giocatore perché ha un work rate normale di attacco che secondo me non è il massimo inoltre non è velocissimo non è tutta questa gran velocità anzi se devo dirla mia è un po' macchinosa a volte nei controlli quindi mi aspettavo anche da lui qualcosa di più qualche gol almeno in più invece mi hanno fatti solamente 2 però mi ha fatto tanti assist mentre il giocatore chiave della squadra il giocatore più forte in assoluto è senza dubbio l'attaccante cioè Edu Vargas che ragazzi è qualcosa di divino perché mi ha fatto 6 gol in 4 partite e 5 assist quindi 6 gol e 5 assist in 4 partite sono una media altissima praticamente fa tutto lui sbaglia tanti gol davanti alla porta però ne fa altre tanti cioè è veramente fortissimo è completo ha anche 4 stelle abilità work rate ottimo quindi non si può secondo me chiedere di meglio un attaccante così veramente strepitoso con anche un buon passaggio che appunto gli ha garantito 5 gol 5 assist comunque raga questa è la squadra se avete consigli per la difesa quantomeno fatemelo anche se non penso si possa migliorare ulteriormente c'è volendo un difensore ha anch'esso argento da sostituire al bronzo però vabbè non è il massimo della vita neanche lui anche se ha più di 70 di velocità comunque come ho detto prima fatemi sapere nei commenti quali sono le squadre che volete in futuro che vi tratterò qualche nazionale magari interessante lasciate un bel like come sempre 300 mi piace uscirà un nuovo video e iscrittevi al mio canale pagina facebook twitter instagram tutti i link li trovate come sempre in descrizione noi ci vediamo al prossimo video adesso vi lascio le clip bella ragazzi ciao